Sono state le fontane di Rimini Fiera ad accogliere ancora una volta i visitatori di Ecomondo, la fiera internazionale del recupero della materia e dell'energia e dello sviluppo sostenibile. 100.000 metri quadrati di esposizione hanno ospitato i padiglioni di 1.200 imprese. Qui per quattro giorni si è parlato con il linguaggio della green economy. Tra i marchi molto noti ai reggiani qui a Ecomondo c'è anche Palfinger, il presidente di Palfinger Italia, Orlando Ferrari. Ma cosa ci fa un marchio come Palfinger qui a Ecomondo? Ecomondo è diventato un punto d'incontro di tutti gli operatori dell'ecologia e noi in questo settore siamo i fornitori delle macchine tecnologicamente più avanzate per la movimentazione del ferro vecchio di tutti i materiali riciclati. Quindi siamo qui con le gru Palfinger che sono praticamente utilizzate al 60% degli operatori italiani nel mercato italiano ma anche a livello mondiale. Abbiamo una quota di mercato incredibilmente grande perché abbiamo delle macchine super avanzate, sofisticate rispetto ai concorrenti. E presentate una macchina in particolare. Sì, quest'anno portiamo per la prima volta alla Fiera Ecomondo la gru che sta dietro di me che si chiama Master Drive in quanto questa gru rispetto alle gru classiche ha un sedile particolare completamente automatico con una guida totalmente servo assistita come avviene per gli escavatori cosa che nel mondo delle gru non l'ha mai fatta nessuno precedentemente ed è una macchina straordinaria.